Deve tornare alla verità delle opere, io so per esperienza anche per averlo potuto verificare in diverse occasioni che quando la politica vuole raggiungere un obiettivo ci riesce, riesce a fare grandi opere infrastrutturali, riesce a mobilitare l'opinione pubblica sui grandi temi, riesce a coinvolgere i giovani e a promuovere la partecipazione civile, quindi è un problema di volontà, di volontà politica, di capacità di far prevalere l'interesse pubblico sull'interesse privato, certo è che molto spesso la politica e soprattutto i politici si trasformano in gelosi custodi di una casta con i suoi privilegi e anche con i suoi errori, le sue miserie e questo è il problema principale da superare, io credo che innanzitutto bisogna ritornare ad una democrazia effettiva e a tal proposito mi sembra inopportuno che si conservi un sistema elettorale a livello nazionale che priva il cittadino dalla possibilità di esprimere la preferenza, questo sistema elettorale non avvicina le persone, gli uomini e le donne alla partecipazione e credo che sia uno dei problemi che dovrebbe essere innanzitutto affrontato se si vuole ritornare ad un rapporto equilibrato tra governati e governanti. Grazie a tutti.